Ora vi presenteremo il ponte. Livello facile. Ora compterò fino a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora il livello normale. Mani vicino alle orecchie. Mi tengono. Ora mi alzo spingendo con le braccia. E le gambe sono trese verso in avanti. Ora livello difficile. e le Cheryl dà in piede. O quale sono sempre il cuore? Un'altra direzione.